Ciao, sono Sabri e sto per fare una roba che non si dovrebbe fare Buongiorno mi amate fuso dei paperotti gamers, come state? Spero tutto bene Come saprete io gioco molto ad Adopt Me e una cosa che odio è la gente che si finge me o mio amico Per scammare le persone, sapete magari che ho un server privato dove ogni tanto loggo per entrare e giocare con i fan In questi mesi ho spiegato ai ragazzi che giocano di non farsi scammare, che io ormai ho il nome d'oro Quindi nessuno deve credere alle finte Sabri eccetera Ma siccome ogni giorno su Instagram arrivano messaggi Sabri mi sono fatto scammare da questo, diceva di essere tuo amico bla 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 Voglio provare a scammare io, cioè nel senso a fingermi o Sabri Entrare nel mio server e vedere se qualcuno mi crede Allora per l'occasione ho anche shoppato 5 euro di Robo Di Robux, com'è che richiama Giulio di Robux, Robux? Per fare questa cosa Allora, prima di tutto vado in cerca, metto le pussole Cerco in gruppi e trovo il mio gruppo E dentro, adesso vi spiego perché, quindi unisciti al gruppo Ah, è importante, se non riuscite a trovarlo dal cellulare, avete ragione Si fa così, andate nel vostro menu che c'è tutto a destra, qua nel profilo E c'è gruppi, quindi premete su gruppo e cercate le pussole e entrate nel gruppo Ovviamente devo verificarmi, quindi un secondo Cerchiamo di verificarmi correttamente Scegli la chitarra Ah, eccola, non la trovavo la chitarra Io ho creato, nelle magliette che trovate qui nel negozio Come potete vedere costano 5 che è il minimo che posso mettere Praticamente niente Io mi vesto proprio come Sabri Prendo la 143 pink E poi compro anche i vestiti sempre pink Questi qua i pantaloni Quindi compriamoli Ok Andiamo sul mio avatar Vestiamoci Togliamo questi capelli Vediamo se ne trovo altri di più carini Vediamo un attimino corpo Testa La mettiamo rotonda prima di tutto Vabbè, sono proprio carina, devo dire Ha ragione, ci mettiamo rosa Un minimo almeno I capelli li mettiamo biondi Perché di base devo mettere cose molto semplici Va bene, vediamo se c'è una faccia un po' più carina La faccia da donna Perfetto, adesso devo prendere il link del mio profilo Un attimino Speriamo non sia pieno il server No, 27 persone Perfetto, adesso io copio il link che trovate qui nel mio profilo Ogni tanto lo metto anche nel gruppo per giocare insieme Lo copio Perché devo entrare con l'altro account Per voi basta cliccare dentro per entrare E entro da di là Vediamo, vediamo, vediamo Ragazzi, io lo dico sempre È una cosa... È la prima volta che faccio questa cosa Quindi se qualcuno poi si finge La vera amica di Sabri No ragazzi, lo sto facendo solo per questo video Ah, e giustamente ho appena logato Quindi adesso mi fa vedere tutto Ma io faccio My Roblox Avatar Perfetto Così sono io Ci sono Grazie, sono bellissima Vedete? Questo qua è tutto il mio server Andiamo subito al centro A vedere che cosa succede E poi... Mi viene già da ridere Mi viene già da ridere Vediamo cosa dicono Venite a fare la fila per i regali Ma regali di cosa, ragazzi? Ma perché passate tutto il giorno in fila? Ciao Ragazzi La zona VIP è molto ricca Ma chi sei? Sono un'amica di Sabri Vediamo se mi credono Come state? Una persona Ok, per ora non mi sta credendo nessuno Non mi sta rispondendo nessuno Sto male Perché stai male? Lei tra l'altro è vestita Non è vero Scummer, scummer Lo sono davvero Lo sono davvero Fatemi pure delle domande Se non mi credete Ah, scusa No, raga Non dovete credermi Non dovete credermi Allora, dice a Sabri di entrare nel server Non può ora entrare Perché sta editando un video Sono entrata io al suo posto Falla venire nel server Proprio? Scusa se lo dico Ma a volte potresti essere un po' più gentile Ah no, vabbè Non ce l'ha con me Io me ne vado E non è vero Non è vero Ti chiedo l'amicizia Sei una bugiarda? Per farti dare pet Anche no No, non voglio pet Sono venuta solo a fare amicizia Perché lei non può venire Non sono mica una scammer Ragazzi Non credete Oddio Marianna Sei fantastica Così vi voglio Così vi voglio Questo è il profilo dove fa Ah ma no, ma raga Aspettate Quest'altra Si sta fingendo me Questo è il profilo di dove faccio i trade Non è vero Cioè io sono entrata a scammare la gente E invece ho trovato dentro Una che fa Che fa finta di essere me Lei è una scammer Non le credete Non ci credo ragazzi Non ci credo Vedete praticamente lei è vestita Come quando io mi vesto particolare Per non farmi trovare dai fan Perché sto registrando Però si chiama Trollina e Pussola Mio Dio Non ci credo Lei è una scammer Le sabri Ma guarda Questa fa schifo È andata via ragazzi È andata via È andata via Non ci credo È la prima volta che mi succede Cioè è anche la prima volta che lo faccio No non è vero Io l'altra volta mi ero presa del fake Più volte Perché quando avevo scambiato la skin La gente non mi credeva Nonostante avessi il nome mio Adesso proviamo a scammare Cioè proviamo a fare amicizia con qualcuno Ciao Marianna Come stai? Sapete quando sabri viene E se viene? Sì io sono la sua amica della vita vera Se mi dai un pet Le dico di entrare nel server Se è vero regalami un pet Ma è tornata la scammer È tornata la scammer È l'altro profilo dove faccio trade Sei una scammer Non sei la vera sabri Non ti crede nessuno No raga mi è cambiato il video Io volevo Cioè volevo fare io la scammer E invece Non voglio regali Cosa sta facendo? E cosa vuoi? Scarol mi ha mandato un trade Vediamo cosa vuole Se mi manda qualcosa Scarol01 Eh ma non mi manda niente Ma è lei Scarol01? No è trozzolina e bussolina Sono povera Chi mi dà un pet? Così lo dico a sabri Non fatemi regali Allora questa qua adesso non sta scammando Sta dicendo non fatemi regali Perché sta facendo finta di essere me Oh Vittoria Mara Mi ha mandato un trade Vediamo Vittoria Se mi... Gli ho scritto che sono povera Se mi... Che carina Mi sta veramente dando un pet Grazie Grazie mille Vediamo se accetta Io dopo non accetterò però eh È solo per vedere che cosa succede Voglio vedere se ha accettato No ora non sta accettando Dai accetta Dai no accetta Vittoria No Vittoria non accetta più Se io ti fo questo per Fai entrare immediatamente la sabri Se no ti segnalo Ma Vittoria Allora amore Io sto facendo questo video apposta Lei mi ha detto che mi regala La lontra Perché io mi sono finta un'amica di sabri E ho detto loro che se mi regalano un pet Io faccio entrare sabri nel server No ragazzi Vedete è proprio questo che io voglio spiegarvi Non dovete credere a nessuno Perché io potrei essere chiunque E non la vera sabri Che vi sta facendo questo solo per scammarvi Per avere un pet Poi è ovvio che non farei mai entrare sabri Capito ragazzi Non dovete credere a queste persone Ci riprovo Sì se me lo dai Io faccio entrare sabri Non dovete credere Adesso è un caso che sono io Ma immaginate che questo qua È Tizio Caio Sempronio Che vi fa questo trade Vediamo se ci casca Potete regalarmi quello che volete Anche un pet base Ma ovvio che no Mi dice Dai solo uno Prima Prima me lo stavi per dare Ecco vittoria mi ha mandato un trade È sempre lei Vitto non devi mandarmelo Amore Non devi mandarmelo Se mi regalate un pet Faccio entrare sabri Dai vitto Non ci cascare Non ci cascare Non mi sta dando niente Brava vittoria Se non entra ti segnaliamo tutti Ok se non entra potete segnalarmi Però datemi un pet Chi ha che mi scrive Arianna grande Ah no amico Andre Alice Bensi mi ha mandato un trade No raga No raga Perché mi state credendo Un gattino Vediamo se accetta Io accetto Accetto solo il primo Poi non accetto il secondo Ah ok ha declinato Ottimo Ottimo Ok brava Alice Mi sei piaciuta Se non mi date i pet Io non faccio entrare sabri Sabri entra oggi pomeriggio Ma chi mai ha detto una roba del genere Ma chi mai Se ti segnaliamo tutti i roblox ti banno dal gioco Quindi dici la verità subito Ma certo Vi sto dicendo la verità Sono una sua amica Ho anche il suo numero di telefono Se è la verità regalami qualcosa Ma cosa ti devo regalare Ma voi dovete regalarmi qualcosa Cioè sto facendo fake eh Falsa riportiamola Mamma mia Vi amo ragazzi Vi amo Ovvio mi ha mandato un trade Vediamo se mi dà qualcosa Se mi dai un regalo Faccio entrare Sabri Vabbè ti do un cane Però lo dai alla Sabri Sì certo Lo do alla Sabri Datemi pure i pet Che volete dare a lei E io Glieli darò No raga Ma voi non dovete credermi Segnalata cinque volte Vi adoro Vi adoro Dammi la puzione Raido Non ti do niente No raga Mariana mi ha veramente dato un cane Solo che me l'ha dato con il regalo Quindi non ho potuto dirle di no Falsa scammer Riportiamola Mari no Adesso glielo ridò indietro Mariana Mariana Give it them From backpack Pets Glielo ridò ovviamente Vabbè ragazzi Qualcuno mi ha creduto È sbagliato ragazzi Non dovete credere Mai a questa cosa Io adesso dico ai ragazzi Che ero veramente io E sono molto contenta Ma non credete mai A queste cose E adesso magari entro Con il mio profilo Così glielo dico Banna Mi sto dicendo che in realtà Ero io E tutti mi dicono Ma ma Bannatela lo stesso Segnalatela E io gli ho detto No ragazzi Ero veramente io Siete stati bravissimi tutti Tranne Mariana Che però il pet L'ho ridato E continuano Scammer Scammer Io ti segnalo comunque Bravi 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 Così vi voglio Bravissimi Ma sono davvero sabri Ora entro Con il mio account Così Ve lo dico davvero Sì Sì Non ci credo Allora facci un video Allora adesso Entro con il mio account Davvero Raga che ridere Che soddisfazione Cambio account Mi ha dato molta soddisfazione Questa cosa A parte un paio Che una ci ha creduto E l'altra ci stava credendo Però vabbè Mi ha dato comunque un gatto Quindi non mi ha dato niente di che Mi ha dato soddisfazione Vedere che non Non avete creduto al fake Vuol dire che ogni volta Arriba dirlo Qualcuno mi ascolta E scrivo Amori Ero io davvero Stavo registrando Per vedere Se mi Credevate Adesso Glielo sto dicendo Tanto era un cane Amori Che bello Sabri Sì Ero io Amica di Sabri Adesso vado a salutarle Queste pustole Intanto mi cambio Il dress up Mi rimetto il mio Roblox Avatar Oddio ho visto il suo account Ecco guarda Grazie Sei molto gentile Allora torniamo al centro Sono al centro Bravissimi Non dovete mai credere a nessuno No 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 Sclero Sclero Sono davvero felice Che non mi abbiate dato i pet Nell'altro account Fache Sabri piango Sabri piango Rihanna Non credere Più ai fake Ok Mi raccomando Ok Amore Vabbè ma ci sta Io penso che bisogna Sbagliare Per imparare le cose Adesso faccio una partita Con loro Vi va Una partita A nascondino A qualcuno mi sta dando i regali Perché sono attivi Mi ha dato un Cavalluccio marino Sì 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 Allora vado a nascondermi Dal Negozio di passeggini Che mi piace molto Devo diventare piccola Perfetto E vado qui Sono nascosta Vediamo il primo che mi trova Primo indizio Due punti Pink Beh pink si dovrebbe capire La prima cosa che pensi Con pink vuol dire Rosa in inglese Brava Mariana è arrivata È la prima che è arrivata Bravissime Anzi queste non so Bravissime Sono tutte femmine Bravissime Mariana si è avvicinata Prima di tutte Guarda Anche se sei stata Prima Un po' fissacchiotta Perché te li hai fatta Scammare Qua sei stata molto brava A trovarmi E quindi ti regalo Un pet Eccola qua Ti regalo La tua bella coccinella Confermiamo E io scrivo Grazie per aver giocato Con me e registrato Non credete Mai ai fake E allora Mi raccomando ragazzi Questa cosa è importantissima Anche per la vostra vita Vi ho fatto un esempio Di quello che succede Tutti i giorni Qua è stato un caso Perché molto spesso Io so che Molti di voi A quelli che si fingono Amici miei Regalano pet leggendari Poi da dare a me Cosa che non è vero Io non manderei mai Nessuno a prendere I vostri pet Detto questo Vi mando un bacio grandissimo E ci vediamo domani Con il prossimo video Ciao ragazzi Ciao